la regginetta dello stand fiat di parigi 500 riva oggi finalmente sullo stand insieme alla barca che l'ha ispirata acqua riva super entrambe nello splendido colore blu sera il colore che fiat ha ripescato dagli archivi storici di riva e che unisce l'interpretazione di questa splendida vettura di questa splendida barca seconda importante novità del nostro stand 124 spider america una versione di 124 unità una versione dunque limitata che andrà in vendita nelle prossime settimane nel mercato italiano e poi a partire da gennaio nei mercati estere una vettura che ricorda la 124 spider america lanciata negli anni 80 che celebrava il cinquantesimo di pin in farina completiamo lo stand il nostro giro nello stand con la tipo station wagon completa il lancio della famiglia tipo dopo la quattro porte e la cinque porte anche la station wagon la macchina che aggiunge flessibilità e spazio 550 litri di bagagliaio la macchina per le famiglie e e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.